Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi andrò a disegnare per il puro piacere di rilassarmi delle piante ultimamente sto amando tantissimo disegnare piante o comunque le piante in generale e vorrei riempirmi la stanza tipo di piante non so per quale assurdo motivo ma amando la natura penso sia normale comunque oggi ho riempito un'intera pagina del mio sketchbook con piantine, fiorellini, vasetti sono davvero molto carini, il risultato è molto molto bello perché è molto minimal ho usato semplicemente una penna nera e spero che vi piaccia se vi va di ricreare questo video taggatemi sui vostri social mi trovate su tiktok e su instagram oh let's get started oh 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti